Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di Sanpei Shirato, uno dei miei autori preferiti, ma forse anche un po' di più. Infatti, una sua opera, forse l'opera sua più famosa, Sasuke il piccolo ninja, mi è stata proprio d'ispirazione per definire le mie passioni da quando ero bambino. Se mi piace l'animazione giapponese e il fumetto giapponese, il merito è soprattutto suo. Trovo il suo tratto grafico ancora pazzesco, accattivante e unico, mi piace così tanto che a regà ho deciso di tatuarmelo. Vi porto con me, divertitevi con il video e ditemi se il tatuaggio vi è piaciuto. Grazie.